Ma io ti faccio i complimenti comunque perché sei molto interessato a una cosa che io vedo che nessuno parla, a parte te nessuno parla di questa cosa ed è una cosa che poteva capitare a me o può capitare a me, può capitare a chiunque ragazza no? Perché comunque stiamo parlando di un caso che ha fatto il giro del mondo e penso che la sua religione di lei e lei è molto come donna, è vista diverso magari da una dominicana perché noi in Repubblica Dominicana si parlano solo di Berlusconi, è famosa per Berlusconi, la gente è una cosa che è carina per noi magari per la sua religione di loro, Marocco, questa cosa di una donna troppo in vista non è una cosa molto positiva nei suoi confronti. Lei ha vissuto molto male, ha vissuto questi processi, li ha vissuti con una fatica estrema? La fatica è come quando parlava, parlava troppo, io per esempio io dico le cose ok ma lei era proprio... Aveva una forza, una cattiveria anche nel dirlo Ma non cattiveria, una vivacità non era passiva, non era cattiva nel senso una vemenza anche nel dirlo perché io ho visto ultimamente lo gridava quasi Lo gridava perché quando una persona chiede aiuto, ausilio, in spagnolo, aiuto però lei non aveva nessuno che la proteggessi Era tutto stato fatto, terra bruciata Lei è da sola, lei ha fatto tutto da sola, lei si ha fatto tutto...